Saranno sentiti in videoconferenza dalla Danimarche due turisti danesi, padre e figlia, che occupavano la stanza accanto alla 609 dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca, dalla quale volò giù il 3 agosto 2011 Martina Rossi. A processo per la sua morte due giovani erettini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza di altro reato, la tentata violenza sessuale. Il collegio preseduto dal giudice Angela Avila ieri ha infatti autorizzato l'arrogatoria internazionale, dopo che era andata a vuoto la proposta del procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi di acquisire verbali resi durante le indagini preliminari dei testi stranieri. L'avvocato Stefano Buricchi, per conto di Luca, aveva infatti accettato, non ha invece prestato il consenso l'avvocato difensore di Alessandro, Tiberio Baroni. La videoconferenza sarà organizzata a Perugia, dove c'è una sala attrezzata a metà settembre. Se questa strada però non potrà essere percorsa, si procederà in modo tradizionale, ossia con domande risposte trascritte e tradotte, poi inviate al tribunale. Le parti hanno già presentato su richiesta del collegio le domande da inoltrare ai testi. Il prossimo 11 settembre si saprà se l'opzione della videoconferenza sarà attuabile. In quella data il tribunale tornerà infatti a riunirsi per fare il punto della situazione. I due turisti danesi sono gli ultimi testimoni della pubblica accusa. Si tratta del padre e della figlia che in quella drammatica notte avrebbero sentito prima un grido, secondo l'accusa di Martina, e poi un precipitoso rumore di passi lungo le scale, quello di Alessandro, sempre secondo il procuratore Rossi. Una versione che indubbiamente cambierebbe le carte in tavola.